Anticipazioni Grande Fratello, spostata la finalissima, la nuova data Cambia la programmazione della finalissima del Grande Fratello 15, ecco quando va in onda. Mancano solo poche ore alla semifinale del Grande Fratello 15 che andrà in onda oggi 29 maggio su Canale 5 a partire dalle ore 21 e 25. 5. Le sorprese saranno grandi protagoniste dell'appuntamento che sancirà i nomi dei finalisti, uno di loro è già certo ovvero Simone Coccia Colaiuta, che la scorsa settimana è riuscito a conquistare l'ambito posto dopo un televoto lampo. Alberto, Danilo, Filippo, Lucia e Veronica dovranno invece scontrarsi per ristare nel programma, sono loro i cinque concorrenti in nominazione e non è affatto da escludere che siano in due coloro che dovranno abbandonare la casa prima dell'ultima attesissima prova. Grande Fratello Anticipazioni semifinale, un regalo per Veronica. La puntata del Grande Fratello 15 di oggi 29 maggio darà i primi responsi di questa edizione ovvero i nomi dei concorrenti che potranno accedere alla finalissima. Non mancheranno inoltre le sorprese a loro rivolte a partire da un gradito regalo che riceverà Veronica Satti. Come annunciato da Barbara D'Urso, infatti, Bobby solo ha deciso di concedere una possibilità alla figlia anche se lontano dalle telecamere. La sorpresa di cui tanto si parla nelle ultime ore potrebbe essere quindi lui in persona o una lettera scritta per cercare di chiarire la situazione con Veronica dopo le lunghe battaglie legali. Finale Grande Fratello, quando va in onda. Nelle ultime settimane, i telespettatori del Grande Fratello hanno visto variare la giornata di programmazione al martedì, inizialmente andava in onda di lunedì, a quanto pare per evitare la concorrenza con il ricco palinsesto di Rai 1. La pericolosa rivalità sarebbe il motivo dello spostamento del giorno in cui verrà trasmessa la finalissima del reality show. Canale 5 ha infatto deciso di non correre rischi e di rinunciare alla competizione con Wind Music Awards in onda martedì 5 giugno nella rete Ammiraglia Rai. La finale del GF verrà trasmessa in anticipo rispetto alle previsioni della vigilia. Il giorno in cui verrà proclamato il vincitore o la vincitrice di questa edizione sarà quindi lunedì 4 giugno, sempre in prima serata. I pronostici dei bookmakers danno Alberto Mazzetti tra i favoriti insieme alla coppia inseparabile formata da Matteo Gentili e Alessia Preti. Secondo gli scommettitori Lucia, Filippo e Veronica sono praticamente fuori dai giochi mentre diversi dubbi continua a riservare Danilo che, nonostante le polemiche, è riuscito a conquistare una buona fetta dei telespettatori. Secondo gli scommettitori